Ciao Strimpellari, quello che state prevedere è un brano realizzato per il Guitarsnapper Club per migliorare nella tecnica del sweep picking, quindi verticale proprio sul sweep picking. Vedrete 5 pattern, che non sono altro che 5 esercizi, ma che si possono anche utilizzare all'interno di un brano. E niente, fatemi sapere se vi piace quello che stanno studiando proprio questo mese. Buon ascolto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!